Ho la mia visaggista, mi mette delle mollette, ma non chioma è talmente florida che non lo stia. E' per la pubblicità da reale. Quando mi muovo non devo schiacciare i bimbi perché fino qua tra pancia e barba non li vedo. Allora si mettono sotto a fare le foto e il papà o la mamma mi deve dire quando lui possa ne andare. Perché con questi, anche se muovo abbastanza bene, come tu potresti stare qua. Non vorrei mai essere nei quei padri. Diciamo che potremmo restarci anche in 5 o 6 nei venti padri. Qui dentro sono leggermente un po' più maggiore, leggermente. Però all'esterno devo risultare così. Mi dispiace per il gesto che faccio, intanto non so se Hagrid nel film, voi che ne avete visto tanti, lo fa. Noi basteggi, credo, lo faccio. E' Raffaella Carlotta. Esatto. Allora facciamoci una foto con Hagrid. C'è, come vai? Agrid, le bacchette, tutto. Professor Piton. Piton. Foto. No, ma c'è un cd. C'è un cd. Sì, serve per... C'è un cd. C'è un cd. Bellissimo. Sì, è qua. Ma no, ma qui non ci sei. Mi hanno chiamato, sono arrivato. Grazie. 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 Io sono più cattivo. Grazie. Sì, è qua. Grazie.